Ciao a tutti amici di XTMR.com e ben ritrovato dal nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto finalmente in redazione il nuovo mouse da gaming della Dream Machines, parliamo del DM-1 Pro S. Partendo velocemente dalla confezione troviamo una classica confezione di cartone di medie dimensioni, di colore bianco, in contrasto con i riferimenti di colore nero. Nella parte frontale troviamo il modello del mouse, l'immagine illustrativa del mouse e il nome dell'azienda. Mentre spostandoci in reda della confezione troviamo le specifiche tecniche riportate in lingua inglese e in lingua polacca, oltre ai riferimenti all'azienda. All'interno della confezione troveremo le istruzioni in lingua inglese e in lingua polacca, dei mouse fit di ricambio per l'esattezza 3, ed infine il mouse, il Dream Machines DM-1 Pro S. Il design risulta semplice, elegante e nonché classico, colorazione full black. Di questo modello sono disponibili due versioni, la versione rubberized, quindi con una superficie soft touch gommata che abbiamo ricevuto oggi in redazione, e la versione lucida, glossy. Partendo velocemente dalla parte superiore troviamo dunque una superficie soft touch, nel retro troviamo il logo dell'azienda, il quale verrà retroilluminato di diversi colori a seconda dello stadio step DPI a cui staremo lavorando. Nella parte più avanzata troviamo un singolo tasto per lo switch dei DPI on the fly, e la ruotellina di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma per assicurare un miglior scroll grip sulla stessa. Ovviamente i due tassi principali sono dotati di switch Omron per assicurare longevità e qualità al mouse stesso. Dobbiamo dire anche che le due versioni che abbiamo poc'anzi citato si differenziano semplicemente per il rivestimento della superficie superiore, infatti i lati rimarranno sempre di tipo soft touch. Quindi spostandoci nel lato sinistro troviamo semplicemente due tassi laterali con un buon feedback, come possiamo sentire, e ovviamente una piccola scanalatura per farci poggiare il pollice. Le dimensioni medio piccole del Dream Machines DM1 Pro S sono ideali per coloro che hanno una presa di tipo claw grip oppure fingertip. Sconsigliabile è la palm grip, viste le dimensioni e l'altezza del mouse stesso. Spostandoci nel lato di destra troviamo un'ulteriore scanalatura dotata sempre di una superficie soft touch. Ruotando il mouse e posizionandolo frontalmente possiamo notare inoltre la forma e il design ambidestro. Ovviamente anche se è un mouse ambidestro sono presenti i tassi laterali solo nel lato sinistro, quindi eventualmente un mancino non potrà utilizzare il mouse se richiede i tassi laterali. Spostandoci nel lato inferiore troviamo i 3 mouse fit, in questo caso sono dotati ancora del rivestimento di plastica e dovremo rimuovere prima di utilizzarle. Al centro troviamo un sensore ottico PixArt PMW3360, uno degli ultimi, se non l'ultimo sensore di tipo ottico dalle prestazioni davvero eccellenti come abbiamo potuto riscontrare in altri mouse da noi già testati. Ovviamente è presente un ulteriore adesivo con ulteriori informazioni. Il sensore ci permetterà di switchare da un minimo di 400 ad un massimo di 12.000 dpi. Ovviamente crediamo che nessuno riesca ad utilizzare 12.000 dpi in gioco. Spostandoci al cavo, questo è rivestito in treccia di tessuto con un motivo nero e rosso, quindi risulta molto gradevole e si intonerà molto bene alla colorazione full black del mouse. Ed infine il connettore USB dotato di un cappuccio in plastica per la protezione dello stesso quando non utilizzeremo il mouse e placcato oro. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta del mouse sul nostro sito www.ximardor.com per trovare ulteriori informazioni, immagini e i nostri test. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.